Sindaco, l'altro punto interessante e importante è i due tempi per poter mettere mano alla messa in sicurezza del territorio segnato dalle ultime mareggiate. Di subito accedere a un mutuo e poi puntare ad un progetto più vasto che dovrà essere poi finanziato. Sì, il Comune di Ischia non ha le risorse, perché si parla di risorse importanti, che bisogna impiegare per dare delle risposte definitive sulle problematiche di protezione della costa. Il Comune di Ischia non è in condizione di poter avere risorse per poter generare un sistema di protezione delle nostre coste con delle scogliere. Quello che possiamo fare da subito è intervenire laddove si sono generati i danni lungo la costa e quindi nella zona della Mandra, nella zona di Ischia Ponte, nella zona del Lido, con degli interventi finalizzati ad eliminare le situazioni di insicurezza e di forte precarietà che si sono venuti a riscontrare. Lo faremo con dei fondi che stiamo andando a chiedere in maniera molto celere alla Cassa Depositi e Prestiti. Chiaramente, parallelamente, procede la richiesta di riconoscimento di danni da calamità naturale, per i quali noi rivendichiamo eventualmente delle risorse suppletive, proprio per meglio garantire la sicurezza alle nostre coste. E così come esistono altre progettazioni in corso per affrontare e risolvere definitivamente quelle che sono delle problematiche che si stanno acquendo con le avverse condizioni meteomarine. Mi riferisco in modo particolare alla problematica dell'acqua alta a riva destra, dove ribadisco il Comune non ha le risorse per poter effettuare questo intervento e ha partecipato nell'anno 2018 a un bando sulla portualità, candidando una progettazione che prevede l'impiego di risorse per 10 milioni di euro. Siamo in graduatoria, l'ufficio tecnico sta lavorando per la redazione di un progetto esecutivo che sarà presentato agli uffici competenti della Regione Campania e che sarà l'attro prodromico al rilascio materiale delle risorse che poi ci consentirà di avviare le procedure per portare a definizione questa problematica.